Un solo piccolo animale, uno solo, piccolo, piccolo così, con i bri, l'avete mai visto? Un animale straordinario. La raccolta differenziale, non vi dico, i primi mesi, una difficoltà enorme. Dove va la plastica? Dove va il vetro? Dove va il multimateriale? Questa parola è terribile. Gli imballaggi, che sono gli imballaggi? Una cosa preziosa, importante. I nostri prodotti... Buongiorno, grazie a voi. Per me è importante. Immaginate, io ero piccolino come voi e giravo in questa... Vi diamo anche a fare la fotografia con noi il presidente dell'Associazione Nazione Napoletana e il direttore del centro commerciale, il dottor Stivanilli. E ci ospite, chiaramente, che lo ringraziamo per tutti gli eventi. Facciamo venire qui Michele e Paola. No, c'è il posto dove mettere gli imballaggi, c'è il posto dove mettere il vetro. Albero!